Ok, oggi parliamo di attività fisica che naturalmente può esplicarsi in vari modi e comincio col ricordare una frase degli antichi romani, mens sana in corpore sano, che vuol dire la salute fisica che permette poi di essere più rilassati e affrontare meglio le difficoltà della vita quotidiana. Ma come deve essere svolta questa attività? L'attività può essere un'attività moderata e in questo caso gli esperti consigliano circa 150 minuti alla settimana, divisi in tre parti, per cui ogni due giorni si potrebbero fare 50 minuti di attività moderata. Poi c'è chi invece preferisce fare attività intensa, allora in questo caso sono consigliati 75 minuti alla settimana, naturalmente sempre divisi in due o in tre parti. Quindi l'attività fisica può essere non allenata ed è quella che facciamo a volte tutti i giorni, quando ci richiamo al supermercato e portiamo la spesa, quindi facciamo uno sforzo fisico perché portiamo gli oggetti o gli alimenti che abbiamo acquistato, oppure quando preferiamo fare le scale piuttosto che prendere l'ascensore. Poi c'è invece l'attività fisica non strutturata che è non agonistica, come il camminare, il correre, andare in bici, c'è chi si iscrive a corsi di ballo, di danza o chi va in piscina. E questo però presuppone un minimo riscaldamento dei muscoli prima di fare questa attività. Tuttavia, pur essendo non agonistica come attività, necessita di un certificato medico che prevede una previa effettuazione di almeno un elettrocardiogramma e poi della visita medica del proprio medico di famiglia. L'attività invece sportiva, agonistica, quindi molto strutturata e che prevede l'impegno di tutti i muscoli, dà la necessità di un certificato rilasciato però da un medico sportivo. Naturalmente quando si fa sport non bisogna eccedere perché si può andare in superallenamento e non basta solo l'attività fisica, anche moderata o di tipo non agonistico, ma io consiglio sempre di abbinare anche una dieta adeguata. L'attività fisica è utile nel curare il diabete, l'ipertensione, il colesterolo, l'esaurimento psichico e soprattutto per finire permette di accettare meglio le sconfitte della propria vita.